Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Fratello Maggiore dei Martiri, grazie perché ora ci chiami a mettere i nostri passi, sui passi del nostro fratello Rolando, che pur amando immensamente la vita perché tuo dono. Non ha esitato a rimetterla nelle tue mani. Perché? Anche quanti credevano di strappargliela. Potessero aprire gli occhi del cuore. E scoprire il tuo volto nel suo volto sfigurato. Nei Martiri noi riconosciamo il punto. Vi incontro tra la nostra responsabilità e la tua grazia. Accettiamo lo scandalo del loro sangue, versato che dona salvezza e vita. Accogliamo la sconfitta del male che sembra vincere il bene. Contempliamo il mistero delle tenebre sconfitto, e illuminato dalla luce. Vogliamo seguirti in questo cammino di amore. Per imparare dai nostri fratelli e sorelle. Testimoni di perdono e di pace. Che la croce. Strumento di morte. Porta il crocifisso. Il nostro Signore Gesù. Salvatore risorto e vincitore di tutte le morti. Illumina il nostro cuore con il tuo spirito. Perché i nostri passi non esitino a seguire le tue orme. E di quanti ti hanno seguito su tutti i calvari del mondo. Ed ora sono nella tua vita. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Beato Rolando Rivi. Pregate per noi.